Ciao a tutti ed eccoci qua da Tenore Informatico e bentornati come sempre qui nel mio canale. Spero che stiate tutti bene, iniziamo con questo nuovo tutorial di oggi, una guida veramente super, ma super interessante. Tenore Informatico ha scoperto da poco questo incredibile script che permette di bypassare i requisiti minimi imposti da Microsoft, specialmente nell'ultima versione 24H2 di Windows 11. Questo script è un tuttofare di bypass e di requisiti minimi e prima di fartelo conoscere, ti ricordo di iscriverti subito al mio canale, metti un bel mi piace a questo video e attiva la campanella per essere sempre aggiornato a tutti i miei nuovi video qui sul canale. Siamo pronti? Andiamo a conoscere il programma di oggi. Apro Chrome, questa è la pagina ufficiale dove poter scaricare il programma. Ho già tradotto la pagina dall'inglese all'italiano, si tratta di un tipo di script che viene chiamato il Flyby 11 o Flyby 11 ed è un semplice patcher che rimuove le fastidiose restrizioni che impediscono di installare Windows 11 24H2. È più completo rispetto a quello di Rufus oppure ad altri metodi utilizzati su internet. Quindi il Flyby 11 sfrutta una funzionalità del processo di installazione di Windows 11 che utilizza la variante di Windows Server dell'installazione, che tra poco andiamo a capire come funziona. Comunque questa è la pagina, leggetevi bene le informazioni prima di procedere al download. Il Defender potrebbe rilevarlo come un virus, ma non è un virus, lo vede solo come falso positivo. Io l'ho già provato e funziona benissimo. Su computer che non hanno i requisiti minimi. Andiamo a scaricare il Flyby 11 qui a destra. Ci spostiamo direttamente sull'ultima versione disponibile, clicchiamo ed ecco come si presenta la successiva pagina. Questo è uno screen del programmino ed è stato creato per un amico, come dice qui il programmatore. E soprattutto per aiutare coloro che hanno problemi a installare la 24H2 su computer non supportati. Questo è lo script, poco più in basso dobbiamo cliccare qui su File Zip. Aspettiamo che venga scaricato nel computer e poi una volta fatto chiudiamo la pagina. Bene, ho scaricato lo script nel mio desktop ed eccolo qua. Per estrarre il contenuto lo possiamo fare sempre con il destro del mouse. Estrai tutto con l'estrazione nativa di Windows, ma io preferisco il WinRAR. Andiamo ad estrarre il contenuto. All'interno della cartella ci sono pochi file. Quello che noi dobbiamo avviare è questo al centro. Ed è l'eseguibile di Flyby 11. Doppio clic per avviare lo script. Si tratta di un tipo di programma che non viene rilevato da Windows. Per Windows è sconosciuto, ma comunque lo andiamo a eseguire lo stesso. Clicchiamo su esegui comunque e apportiamo le modifiche al dispositivo. Il programma è pronto. Vediamo un po' come funziona. L'unica pecca di tutto questo è che il programmino è in inglese e non in italiano, ma fa lo stesso. Lo metto al centro per vederlo meglio. Possiamo anche allargare a tutto schermo. Questo script mette a disposizione due metodi per bypassare i requisiti di Windows 11 24 H2. Il primo metodo, quello nativo, raccomandato, ovvero permette di bypassare utilizzando il metodo tramite il server setup. Basta selezionarlo per applicarlo. Oppure troviamo il secondo metodo. che serve per bypassare i requisiti via registro utilizzando il metodo Rufus. Però dice che non è raccomandato perché bisogna fare attenzione che stiamo modificando i file di registro. E questo metodo non è propriamente consigliato. Meglio il primo metodo più funzionale e più sicuro. Anche per non danneggiare i file di registro di Windows 11. Prima di procedere con il bypass dei requisiti bisogna innanzitutto procurarsi la ISO del sistema operativo e per farlo qui in basso troviamo la funzione che si chiama FidoPS ovvero viene scaricato Windows 11 direttamente dalla fonte di Microsoft e quindi dal sito Microsoft. Basta cliccare Fido e poi qui in basso per applicare le modifiche e scaricare la ISO clicchiamo su Patch. Alcuni secondi dopo ci viene restituita una schermata che conosciamo molto bene. Questa schermatina è già presente in Rufus perché anche Rufus dà la possibilità di scaricare la ISO di Windows 11 e quello che dobbiamo fare semplicemente è procedere al download del sistema selezionando prima la ISO andando avanti poi ci chiederà di selezionare la build quella presente in l'ultima l'edizione però come stiamo vedendo in questo momento mi dà errore e non posso scaricare la ISO dal sito di Microsoft per mezzo di questo script il problema non è dovuto allo script ma al sito di Microsoft che probabilmente c'è un problema nel server oppure in tanti stanno scaricando in questo momento la ISO di Windows 11 24 H2 ma fa lo stesso dopo FIDOPS c'è anche l'altra funzione interessante di Windows 11 assistente che consiglio di installare per capire se il vostro PC ha i requisiti per supportare 24 H2 ma comunque grazie al FlyB11 non ci sarà questo problema visto che possiamo tranquillamente bypassare i requisiti una volta che abbiamo selezionato l'assistente di Windows 11 clicchiamo ancora una volta su patch verrà scaricato il pacchetto che ci dice fin da subito se il proprio computer supporta i requisiti minimi richiesti nel mio caso è già in esecuzione l'ultima versione di Windows 11 e chiudo la pagina questo serve a chi vuole fare questo test e per completare l'ultima funzione che permette di montare la ISO utilizzando questo pulsante qua clicchiamo per montare la ISO in modo da entrare all'interno della ISO di Windows 11 24 H2 per eseguire il setup clicchiamo inseriamo la ISO con doppio clic alcuni secondi dopo verrà montata come stai vedendo ed ecco qua siamo pronti per bypassare i requisiti di Windows 11 24 H2 apro la cartella per farti vedere che la ISO è stata montata e non è necessario fare l'estrazione eccola qua destro del mouse apri e all'interno troviamo tutto il contenuto di Windows 11 per eseguire così il setup però il setup viene fatto in automatico dallo script bene chiudiamo adesso questa pagina e vediamo come procedere con il metodo 1 per il bypass per bypassare i minimi requisiti utilizziamo il primo metodo nativo raccomandato selezioniamo le spunte e clicchiamo su patch chiudiamo la pagina per scaricare la ISO visto che la ISO è già stata scaricata clicchiamo su ok ok nuovamente e montiamo la ISO ok di nuovo aspettiamo attualmente lo script sta già provvedendo al bypass dei requisiti minimi lasciamo aperto il prompt dei comandi andiamo avanti aspettiamo come potete vedere è andato tutto bene i requisiti sono stati bypassati con successo grazie allo script di FlyB11 e possiamo procedere con l'aggiornamento dalla 23H2 alla 24H2 andiamo avanti accettiamo le condizioni clicchiamo su accetta e poi qua già sapete come dovete procedere nel mio canale trovate i video su come eseguire la procedura per mantenere oppure no i vostri file personali comunque per farti vedere andiamo avanti e finalmente siamo pronti per eseguire l'aggiornamento di Windows 11 24H2 nel nostro computer datato non vado oltre perché ho già l'ultima versione nel mio pc chiudiamo queste pagine annulliamo così l'aggiornamento nel mio caso chiudo tutto e per completare questo mio video vediamo ora l'ultimo metodo che però è quello sconsigliato questo metodo applica delle modifiche nel registro di sistema con il metodo Rufus che ovviamente non è raccomandato se cliccate su pace il registro verrà modificato comunque anche questa procedura permette ugualmente di bypassare i requisiti minimi bene siamo giunti alla fine di questo mio video spero che questo mio contenuto ti sia piaciuto per qualsiasi cosa commenta qui in basso nella sezione dei commenti e ti ricordo di iscriverti al canale di Tenore Informatico lascia un like a questo video e noi ci vediamo alla prossima da Tenore Informatico ciao a tutti